... ... ... ... ... ... Fermate, fermate! Sta cazzata hai preso. E' stupire da te, no? Sai lavorare un parcheggio, non è fare la guardia, è diverso. Fai la guardia un parcheggio? Sassetto, fatti le chiave. E' una balla, ma questo stai a fare? Grazie, Gesù, per averci adottate nella tua vita. Gesù è come il navigatore della macchina. Perché fai il navigatore quando sbagliate strada, quando vi perdete? Mica dice, mi era ammazzato, avevo detto gira a sinistra, sei andato a destra, a domani! Ricalcola il percorso, vi riporta sempre a casa. Già ti sei fatto cacciata al centro commerciale. Io ho la fila di gente qua fuori che mi sta a chiedere lavoro. La fila per fare guardia in grado. Vedi, fuggiati, ecco, stiamo a finire come questi noi. Fini la colpa la mia. Questi chi sono? I vicini. Come ti chiami? Agnesio. Stefano. Che? Ti volevo ringraziare. Andai tranquillo. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Un'iniziativa che sostiene i ragazzi che hanno deciso di arrivare in castità al matrimonio. Perché tu ci devi ancora pensare? Sì. Come tutti gli altri. È una mia scelta. Cioè come sai quando ti devi fermare? E lo sa Dio quando mi devo fermare. Che cosa è stata Agnese? Parlami eh! Ti ho fatto una domanda, no? Agnese! Mi voglio rimanere pura. Tu sei pura. Ti ho fatto una domanda che ha dovuto per l'interenata. Così! Ti ho fatto una domanda che ha fatto da una domanda.